cari amici ho ritenuto opportuno fare questo breve video per farvi notare una cosa il nostro caro amico belini savonese e quindi se sono savonese sono affidabili luto giusto che tra l'altro suona molto bene ha pubblicato questo grafico su dati del ministero della salute la sanità ministro della salute questo grafico delle terapie intensive lui dice ma se continua così tra 10 e 15 novembre avremo 2.500 terapie intensive intasate sì ma voi non notate nulla del grafico il grafico parte da probabilmente lo vedete invertito perché quando si fanno i video paiono invertiti però parte dall 11 di agosto e l'11 agosto quanto pare c'erano zero persone in terapia intensiva e questa cosa non vi dice nulla provate a pensarci un attimo zero persone nessuno in terapia intensiva su 60 milioni abitanti siamo fortunati allora è abbastanza chiaro secondo me che questo si riferisce a le persone ricoverate in terapia intensiva che sono risultate positive al sars co2 perché il ministero non pubblica i dati totali delle terapie intensive volete di questa domanda e probabilmente quello che è successo devo ancora approfondire la cosa però quello che sospetto sia successo e che dall 11 ad agosto hanno cominciato a fare i tamponi anche quelli che avevano avuto infarto o sono ricoverati perché come malati terminali eccetera eccetera e poi sono andati avanti gradualmente fino a certa data poi l'hanno fatto in modo più sistematico quindi i numeri sono aumentati ma praticamente noi qui dovremmo vedere un grafico che più o meno rimane costante dall 11 agosto fino adesso perché probabilmente le terapie intensive se non ricordo male ma vado molto a memoria non fidatevi della mia memoria ma durante il periodo estivo le terapie intensive risultavano sature per il 30 40 per cento e durante periodo invernale arrivano al 70 80 per cento quindi supponiamo che quella linea rossa lì sia invece del limite sia la saturazione delle terapie intensive al 30 per cento diciamo quella linea verde lì ci dice semplicemente quale frazione delle persone in terapie intensive risultata positiva alla sars co2 questi stanno giocando sulle parole sono assolutamente convinto che stiamo giocando sulle parole parlano di persone che in cui il test risulta positivo come di infetti quando ho spiegato l'altro giorno che infetto una persona in cui il virus per la quale il virus è entrato in riproduzione all'interno dell'organismo cioè il virus penetrato uno o più cellule e comincia a riprodursi all'interno dell'organismo questo significa infetto che è un contagiato invece molti secondo me moltissime di questa gente è semplicemente a traccia del virus pure è venuto in contatto col virus ma non ha sviluppato nessun tipo di infezione come ho detto nell'altro video tutti noi abbiamo virus e batteri in gola ma non per questo ci ammaliamo quindi i medici che hanno sottolineato il fatto che un asintomatico non significa malato secondo me dovrebbe dargli attenzione oltretutto asintomatico non significa infetto anzi asintomatico preso la lettera significa infetto ma che non sviluppa sintomi invece queste persone probabilmente non sono nemmeno asintomatiche perché non sono nemmeno infette cioè gli si trova tramite il tampone gli si trova il virus in gola però questo virus resta lì un po forse perché sono già state infettate allora sono guarite forse perché hanno un organismo che che non permette una facile infezione da parte di questo virus e così via quindi qui guardate questo grafico come la frazione di persone che in terapia intensiva sono risultate positive a covi loro al sars co2 scusate anche io comincio usare la terminologia farlocca che ho sentito in persino in certi medici questi giocano sulle parole attenti voi dovete assolutamente fare attenzione ogni singolo termine che essi usano perché magari non vi diranno delle balle ma vi metteranno le informazioni e ve la gireranno in modo tale che possa essere interpretato come un disastro quando invece la sezione non è così disastrosa e poi se un giorno qualcuno li scopre e dice no ma voi avete detto questo no ma noi abbiamo detto questa cosa precisa non abbiamo detto che le terapie intensivi sono intasate abbiamo detto che una percentuale una parte no di questi le terapie covi sono stanno aumentando le terapie covi sarebbero gli stessi letti non covi che diventano covi quando uno viene trovato positivo ecco questo mi raccomando attenzione alle parole le parole